Vista mare, cocktail rinfrescanti, bella gente, non è Miami Beach e nemmeno No Lulu, non è Ibiza né Formentera, è lo Chalet Cincin di Mondragone, che sinceramente non ha nulla da inviare a nessuno. Se c'è un punto di riferimento per la movita giovanile, quello sicuramente è lo Chalet Cincin. Con l'estate 2024 alle porte, una domenica appena al mese di maggio è già strapiena. Non solo giovane ai tavolini, al bancone e sulla sua meravigliosa terrazza, ma si intravedono anche famiglie e fasce di edà più adulte, che cercano svago e spensieratezza. Un posto, insomma, per tutti. C'è chi lo ha reso un appuntamento domenicale imperdibile, alla ricerca di tranquillità tra le coccole di uno splendido tramunco. Il tuo cocktail preferito allo Chalet Cincin che non ti vedo in mano però, eh? Ovviamente lo spritz. Tra poco lo vai a prendere? Assolutamente sì. Vieni ogni domenica allo Chalet Cincin? Sempre. Come mai lo sceghi sempre? Perché si sta benissimo, si vede il tramonto più tardi, quindi si sta proprio bene. Molto molto bello e tranquillo. Decine di comitive di amici hanno trasformato lo Chalet Cincin nell'oro ritrovo, grazie all'atmosfera accogliente e gioviale che si respira. Che cosa bevi? È una specialità del bar che mi hanno offerto qui. Perché viene lo Chalet Cincin la domenica? Ma qui si sta bene, non trovo un posto dove si stia meglio. La nostra cantante di Mondragone, Amelia. Buongiorno a tutti. Anche tu allo Chalet Cincin? Sì, ovvio, sempre a Chalet Cincin. Eh, ma ti vedo senza cocktail? No, ora vado, vado da Edoardo. Sta andando, sta andando. Sta andando, sta andando. Per non perdere nessun momento del relax e messo al divertimento, una bravissima fotografa inoltre gira fra i tavoli per immortalare la gente felice. La fotografa ufficiale del Cincin? Sì, sì. Come ti chiami? Marianna. Cosa immortali nelle due foto quando vieni qui allo Chalet Cincin? Allora, cerchiamo di fotografare sia le persone in maniera spontanea, mentre fanno aperitivi, si divertono e cerchiamo di garantire il miglior divertimento. Il dettaglio che cerchi di mettere in luce per lo più? Il fatto che qui si sta bene. La sicurezza, infine, non è trascurata. Solerti controlli, infatti, sorvegliano l'area per garantire alle persone la piena serenità. La sicurezza è la prima cosa. Come la garantite qui allo Chalet Cincin? Cerchiamo di dare il nostro massimo, garantendo per i nostri clienti sempre il meglio. Con lo Chalet abbiamo fatto un accordo di stare qua, garantire la sicurezza dei clienti e dello Chalet. Come vi chiamate? C.E. Segurity Service.